Un posto al sole. Puntate. Lunedì, 12 luglio 2021. Serena è disperata, in quanto suo marito Filippo, non si ricorda più di lei, né della loro figlioletta Irene. La donna, in preda all'angoscia, cerca di forzare la situazione, anche perché non sa, se e quando, suo marito recupererà i ricordi. Pertanto, cerca di sbloccare la memoria dell'uomo, ma, i suoi sforzi, si rivelano inutili. Il giorno della laurea di Rossella si avvicina, e da casa Saviani, è tutto un gran fermento. La ragazza, è determinata a non festeggiare il lieto evento, ma c'è qualcun altro, che non è affatto d'accordo con lei. Bianca, chiede scusa a Jimmy, per essere stata indelicata, ed averlo preso in giro. Jimmy, però, è ancora molto scosso, e si mostra sempre più instabile ed inquieto. Qualcuno, se ne renderà conto, prima o poi? Roberto, si convince sempre più, che sarebbe stato meglio, portare suo figlio all'estero. Ed è in preda alla rabbia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.